Una coppia che conosce bene i problemi del cratere sismico e del doppio cratere, Gianni Anastasio, sindaco di Pizzoli e Massimiliano Giorgi, sindaco di Montereale, sono rispettivamente coordinatori dei sindaci del cratere Vice. È stata una nomina che non ha trovato subito una convergenza, anzi perché le spine per Anastasio sono spuntate dal suo stesso schieramento politico e il PD, forse per vecchie ruggini o forse no, e c'è chi ha fatto intendere pure che ci fosse uno sbilanciamento per l'area dell'Alta Valle dell'Aterno. Il sindaco di Rocca di Mezzo in particolare, Mauro Di Ciccio, aveva chiesto il voto segreto, cosa che doveva passare da essere votata dall'Assemblea. Alla fine il voto palese ha superato per 25 a 19 quello segreto e alla fine lo stesso Di Ciccio ha ritirato la sua candidatura. Anastasio e Giorgi hanno avuto 42 voti a favore con due astenzioni, Cagnano e Rocca di Mezzo. Una questione che ad Anastasio però sembra interessare poco, c'è un grande lavoro ora che lo attende. Ma in realtà alla fine se guardiamo il voto i sindaci hanno dimostrato una grande combattezza che era la cosa necessaria per dare al mio ruolo anche la forza che serve per poterlo interpretare. Detto questo è chiaro, abbiamo percorso un tragitto che ci ha portato alla riunione di ieri in cui ovviamente c'erano anche altre aspettative, ambizioni da parte di qualche collega, legittime secondo me, che però forse sono state rappresentate male. C'è stato un accordo e questo accordo alla fine è stato anche rispettato e che comunque qualcuno anche all'interno della mia compagine politica ha provato a farlo saltare questo accordo evidentemente perché riteneva qualcun altro idoneo più di me a ricoprire questo ruolo però insomma ecco sono soddisfatto di come sono andate le cose. Mi dispiace che ci possa essere stato qualche dissenso ma d'altronde siamo 56, uno lo poteva fare. Il tavolo della ricostruzione oggi è un interlocutore assolutamente necessario perché la ricostruzione nei comuni del cratere non è affatto conclusa, l'aspetto positivo però è che ci sono i fondi, a breve verranno assegnate delle deleghe per sviluppare meglio alcuni grandi temi e per la gestione dei fondi stessi. È chiaro che le questioni riguardano essenzialmente la ripartenza di questo territorio, ancora una volta si torna a parlare di questo però in un momento in cui ci sono le risorse quindi adesso il tavolo che si riunirà e questa cabina di regia serviranno proprio per decidere come utilizzarle e che cosa farci. Questo è il ruolo del coordinatore che dovrà in qualche maniera interpretare le esigenze di tutti e fare in modo tale che ogni comune possa avere la sua parte.